Inviamo un augurio affettuoso intanto a Flavio Briatore che si sta curando come lui ha detto per una prostatite ai polmoni. Auguri affettuosi. Abbiamo visto, ha rilasciato un'intervista, sta benissimo, non ha bisogno più neanche dei nostri auguri, ma veramente con sincerità e con affetto. I migliori auguri di pronto ristabilimento è un invito sommesso ad essere prudente, ad essere prudente, a non fare il fenomeno perché parliamo di cose semplici. Grazie per la visione!